Vado per capire come stanno le cose, dopodiché anche con la struttura di concerto ci muoveremo, verificheremo tutti i passaggi da fare successivamente. I lavoratori hanno diritto al loro stipendio, al loro salario, pertanto mi pare sacrosanto, intanto stamattina li ascoltiamo. Molti di questi lavoratori prestano servizio proprio negli uffici regionali, due giorni di sciopero, si preannunciano altre giornate di lotta, si creano problemi anche per le sedi regionali? Ripeto, adesso in questo momento è prematuro, se sono stati convocati i sindacati che ne hanno chiesto l'incontro, proprio per ascoltarli, quindi non vedo quale sia la difficoltà, se non l'ascolto stamattina, poi verifichiamo quali sono i passaggi successivi, insieme alle strutture competenti metteremo a punto le strategie per modo che possano essere soddisfatti, quelli sono i loro diritti fino in fondo.